L'associazione Federica e Serena, nata in ricordo di due ragazze rimaste vittime del tragico evento sismico dell'Aquila, ha donato il ricavato della dodicesima edizione della notte dedicata a Federica e Serena che si è svolta lo scorso settembre a Teramo. L'importo di 5.000 euro è stato destinato all'associazione Caledioscopio di Teramo per finanziare la realizzazione del progetto Alzheimer Caffè. È un progetto rivolto ai malati di Alzheimer o di qualsiasi altro tipo di demenza e ai loro familiari. Noi siamo veramente grati sia agli artisti che hanno partecipato ma anche a questa associazione a cui noi quest'anno devolviamo il ricavato perché è un'associazione che opera nel territorio veramente con grande serietà e grande professionalità e quindi li aiutiamo a fare questi cicli di incontri gratuiti su tutto il territorio. Durante gli appuntamenti i partecipanti affetti da Alzheimer o demenza sono coinvolti in attività di stimolazione cognitiva, terapia occupazionale, yoga accessibile e musicoterapia, mentre i familiari caregiver prendono parte al gruppo di ascolto condotto da una psicologa. Svolgiamo questi gruppi ogni tre settimane, quindi il venerdì pomeriggio, presso il nostro centro clinico Caledios a Piano Daccio. Sono incontri che durano un paio d'ore, quindi alle 5 alle 7 e sono invitati tutti a partecipare, anche chi si approccia per la prima volta a questa malattia, quindi vuole avere anche informazioni utili, più pratiche, capire un attimino come affrontare il problema e quindi confrontarsi anche con chi vive il problema tutti i giorni. Durante l'incontro con la stampa il sindaco D'Alberto e l'assessore Filipponi hanno consegnato un particolare dono all'associazione che da anni porta avanti numerose iniziative al ricordo di Federica Moscardelli e Serena Scipione. Un riconoscimento istituzionale da parte di tutta la nostra comunità, il leone stiloforo che stiamo consegnando come valore della terra manità e che oggi ci porta ad un ricordo che deve essere accompagnato alla speranza, speranza che quotidianamente deve essere proiettata verso il futuro attraverso il ricordo e le attività concrete, soprattutto per cultura e sociale, che l'associazione Federica e Serena, nel ricordo appunto di Federica e Serena, proietta appunto quotidianamente ogni giorno verso il futuro.